Approvato il progetto esecutivo per l'ampiamento del liceo Copernico, che sarà finanziato anche con i fondi del PNRR. L'intervento costerà 4.625.000 euro, 550.000 finanziati dalla provincia. La nuova struttura sarà in grado di accogliere 250 studenti in 10 aule modulabili a seconda delle esigenze. Previsti anche laboratori e spazi destinati al personale scolastico. Il primo passo vedrà la demolizione dei due edifici esistenti, nei quali è attualmente collocata la succursale del liceo. Seguirà l'allesimento del cantiere per il nuovo edificio realizzato col sistema costruttivo Ligno Xlam, mentre le pareti saranno trasparenti. Prevista anche una piazza interna su cui si affacceranno le aule. L'intervento al Copernico, ha sottolineato il presidente della provincia, Francesco Puggelli, è il più importante in termini economici fra quelli che prenderanno il via nel 2022. Relativi alle scuole superiori e pratesi, un progetto innovativo con un'attenzione all'ambiente. Il cantiere sarà aperto a fine anno, intanto la provincia sta ancora esaminando le proposte arrivate dai privati dove trasferire gli allunni del Copernico durante i lavori di ampliamento.